Inseguiamo questo Stilix enorme boss ragazzi come sempre dobbiamo iniziare questi episodi non con Zizzagun sicuramente Ma sfidando i nostri amici boss leggendari Perché si ragazzi benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Pixemon che tanto ormai amate Quindi forza qui mi piace ragazzi che è molto importante perché oggi torniamo nella ultradimensione Abbiamo una nuova palestra da dover sfidare che ho trovato negli scorsi episodi e questo qua si è bruciato Ha esattamente 0,81 PS di vita, HP di vita Come si permette a farmi tutto questo danno? Come cavolo si è permesso ragazzi? Comunque bentornati, un'altra caramella da nazione Allora, uh, ciao Lucario! Ragazzi i boss di Lucario ancora non avevamo incontrato Comunque vi dicevo, oggi appunto andiamo nella palestra dell'ultradimensione Un'altra delle tante belle palestre Ma non solo perché sto scoprendo piano piano tutti quanti i vari biomi dove le ultracreature possono spawnare Quindi spero già in questo episodio che non mi spawni un altro ferromosa Perché se no tutti quanti impazziscono Ti dico, Marco ma quanti ferromos ti sono spawnati? 5 ragazzi finora Quindi sono veramente tanti Comunque non pensiamoci Ma ora con lanciafiamme facciamo fuori anche Lucario al 110 Questo Charizard al 100 ha fatto fuori un Pokémon al 120 e un Pokémon al 110 Io non mi esprimo Allora, Lucarite, poi weakness policy, niente di che Eh no, eh, Selgor sei molto simpatico, sei carino Ma non mi interessi Comunque ragazzi bentornati Allora, come sempre noi dobbiamo iniziare facendo le nostre bolt Quante queste cose E poi siamo già belli che pronti in realtà perché la squadra E scuso il Diaga che oggi lasceremo in panchina Quindi lasceremo nel box Ci portiamo dietro magari un computer oggi anche Che facciamo? Allora, facciamo giù il Diaga e ci portiamo Dov'è il Necrozma? Necrozma? Ehi! Eh, eh, ho perso Ragazzi ho perso il Necrozma Dov'è? Eh, abbiamo perso il nostro amico Necrozma? Necrozma? Eh, eccolo qua, no? Perché altrimenti ci spaventiamo Che poi è il Necrozma fuso al Solgaleo Quindi non possiamo perdere due leggendari in un colpo solo Non va bene questa cosa Comunque, allora Controliamo quante bolle abbiamo Ne abbiamo esattamente uno stack Lol, abbiamo esattamente uno stack E abbiamo le ceste che sono un disastro apocalittico Quindi facciamo una roba Buttiamo via tutte quante robe inutili Magari questi dischi qua di ferro Non li buttiamo qua dentro Per altre robe inutili, sì Questo è un Wearpool Che è un attacco che potrebbe essere utile Ah, ragazzi! Fermi un attimo, fermi un attimo, fermi un attimo Non so se avete visto Ma qualche giorno fa ho trovato questa La Charizardite X E potremmo darla al Charizard Appunto Per vedere se cambia qualcosa Sono molto curioso Quindi vediamo se abbiamo il primo Pokémon test Che è questo bellissimo Patrat Poi andiamo, ragazzi È promesso Però dai, dannazione Ma ti fai girare la visuale Oh, non mi gira la visuale Dannazione Eh, giriamo Ok, thank you Allora, andiamo da questo lato E controlliamo il Charizard però Con la nuova pietra Della mega evoluzione Lancia fiamme Che bello! Oh mio Dio Oh mio Dio Che bello Charizard così, ragazzi Dovrebbe essere la sua versione X Quindi, in questo momento Ovviamente abbiamo fatto fuori un Patrat all'otto Che non è valso la pena Però fa niente, ragazzi Comunque è davvero Tanta, tanta, tantissima Roba questo Charizard In tutto ciò Controlliamo se qua avevamo altri dischi di Ultra Bolsini Avevamo altri E qua Dovremmo avere altri pulsanti Con altri dischi di ferro Quindi Quello che abbiamo Riusciamo a farci quindi Altre 16 Ultra Bolsini Che non è per niente male Non lo buttiamo sicuramente via E in più quindi questa mega pietra che abbiamo in più Perché l'altra che abbiamo dato a Kendal Che dobbiamo dare a Kendal appunto È direttamente nella sua casa Abbiamo veramente comunque una bella collezione di mega pietra ragazzi È veramente ottima roba Poi abbiamo scoperto che comunque Anche nella Ultra Dimensione Possono spawnare le Ultra Creature Le Mega Creature Quindi i boss Allora facciamo una cosa In tutto ciò Droppiamo via anche questa ascia qua dentro Sistemiamo un po' l'inventario Questo orb ce lo teniamo così nell'inventario Perché ancora Dobbiamo decidere a chi destinarlo Poi mettiamo via anche queste robe in più Anche questi In flotti ci riteniamo L'Expol Se lo mettiamo qua dentro È comunque attivo tecnicamente Quindi possiamo toglierci dalle scatole E mettiamo qua così In questo modo le cose Le caramelle rare Le caramelle rare Io le darei al palchia ragazzi Perché così diventa un po' più P Peccato Che questo palchia qui ragazzi C'è uscito Con una velocità un po' scarsina Però comunque lo accettiamo Per quello che è noi Comunque a livello 75 In questo momento Quindi è veramente Tanta Tanta Roba Io sono bello che carico Perché dobbiamo andare subito così al volo Ragazzi Nella ultra dimensione Ed è notte Quindi l'altare è nella sua versione notturna Ma noi abbiamo il flauto del giorno Dannazione Quindi dobbiamo aspettare che diventi giorno Ti muovi Per favore Cara bellissima luna Sì però intanto che aspettiamo ragazzi Mi sono dimenticato un piccolo particolare Senza la tuta dell'ultra dimensione Dove voglio andare Perché sennò muoio guiderato Dopo un millisecondo Quindi per favore Non dimentichiamoci di questi particolari Uh Ha spawnato un regigigas Ragazzi Aia no Magmal Mollami un attimino Dove lo trovo Un regigigas Allora Fermi un attimo Beh già che ci siamo ragazzi Mentre aspettiamo Non sarebbe male Poter andare a catturare Un altro regigigas Magari ci può servire Allora Perché non si può volare Calma Cerchiamo di capire Se riusciamo a vedere a terra Che bello sto meltan Allora Crabbo Mollami un attimino Qua c'è della nera Sospesa in aria Guardiamo un attimino a terra Perché secondo me Così dal basso Lo vediamo prima Perché magari carichiamo più chunk Volando che si carichano meno chunk ragazzi Quindi rischiamo magari Di non beccarlo in giro Allora Magari là in fondo Guardiamo con l'optify Non c'è Sono curioso però di trovare Questo regigigas Dannazione Vediamo se lo troviamo qua in giro No Lì c'è quel nostro amico di prima Sono Sì Ho fatto un piccolo volettino Verso il basso ragazzi Scusatemi Parchia Dobbiamo volare via Aiuto Parchia Non ucciderci Aia No Parchia Allora Con molta calma Sei È morto? Non è morto Parchia C'è qualcuno Che può tirare fuori Da questa situazione Aiuto Charizard No eh Un po' troppo macchinosa La nostra risalita Charizard Bravo Char No 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 È shiny Ok Interessante Signore regigigas Buonasera Come sta? Spero tutto bene Io le faccio un dark void Giusto per assonnarla Non voglio esagerare ovviamente Giusto per darle quel colpettino di sonno in più Mi raccomando che è importante Ragazzi È shiny C'è È un regigigas shiny Scusatemi Ma È il primo pokemon leggendario shiny Che incontriamo Dannazione Dark void Puoi addormentarcelo Please Dark void Non abbiamo finito il dark void Scusatemi No Dark void Non vuole andare più Va bene Allora se non vuole più andare Io tiro fuori il palchia E faccio la battaglia col palchia Buongiorno Allora Water pulse Vediamo No Vita rossa Bravo palchia Ma con che leggiadria Ma con che perfezione Che lei me l'ha lasciato in vita rossa In più sta diventando anche giorno fuori Qui tanta roba Ma come sempre Le nostre ball Non vogliono muoversi Ma in più abbiamo anche la visuale Buggata Che non ci fa muovere Tutto quanto Quindi non vedo la ultra ball Ottima roba Ragazzi ma sapete che sono tentato Di catturare questo regigigas Con una master ball L'ho detto Perché È shiny Cioè ragazzi È shiny È shiny Ah No vabbè io Io guardo Io sto lì Guardo da lontano Dico va bene Ok interessante Bello Pazzesco Sì È bellissimo ragazzi È troppo bello Sono troppo felice Ce n'ho già uno dire Gigigas E voi mi direte Marco dallo Kendall Marco di qua Marco di là Lascia in libertà Perché è così bello No Lo voglio io Così shiny Poi magari potremmo scambiarlo con Kendall Con qualcosa di interessante Che potrebbe trovare lui Però ragazzi Che spettacolo Dannazione Vediamo se riusciamo a catturarlo In questo momento Con qualche ultra ball Ma a quanto pare Non è che ha voglia di esistere Questo regigigas Cioè soprattutto Non ha voglia di essere catturato Quindi per favore regigigas Puoi rimanere dentro la ultra ball Non c'ha voglia Va bene C'ha pure sbontato la visuale Allora Charizard al 100 Vediamo se con Charizard al 100 Vuoi rompere ancora un po' le scatole o no Ehm Siamo in waiting da un'ora Catturato Preso Preso Fermi un attimo L'abbiamo preso Non ho preso il pc però Prima casa Ho bisogno di prenderlo E di portarlo con me oggi ragazzi Ehm Posso dar crate Via Ottimo Interessante Però già che ci siamo Smontiamo il pc Così ce lo portiamo dietro Questa qui potrebbe essere una cosa Molto interessante Quindi tiriamo fuori il piccone Dal nostro zaino Smontiamolo Lì c'è un bellissimo quilava Questo potremmo prenderlo per candle Quindi proviamo a catturarlo così E anche al 26 Quindi è anche vicino Magari a una sua evoluzione Più che vicina Vivi Lon Non devo prendere te Danazione quilava Per favore Abbiamo una ultra Qua da lanciarti Allora eh Dove sei 1 2 3 4 Preso quilava ragazzi Ora possiamo entrare Nella dimensione Perché è anche giorno Ehm No vabbè interessante Io non dico nulla eh ragazzi Però comunque Diciamo che Si preannuncia un episodio Molto interessante Molto molto interessante Ora la piera Nella zona Se non mi sbaglio Dove appunto Abbiamo sfidato l'ultima palestra Noi dobbiamo andare Verso quella direzione là Per trovare una nuova zona Che ancora Non abbiamo mai esplorato Se non mi sbaglio Quindi sempre dritti Però comunque Sempre saltellando Quella A quanto vedo È pieno di foglie In giro Che stanno smontando Perché stanno droppando Un sacco di sapling Quindi piano piano Secondo me La ultradimensione A quanto sto notando Si sta automangiando Si sta autodistruggendo Xurtri No ragazzi Non ci credo È spawnato Xurtri Nella Ultra Plant Biome Oh è la prima volta Che spawna No ragazzi È spawnato Meno male Che ci ho fatto caso Con la chat Anche È spawnato Noxurtri Non ho la più Pia idea Di dove si trova In questo momento Ma dobbiamo Assolutamente Trovarlo È una nuova Ultra creatura E mi va bene Ragazzi Che è spawnato Comunque Lontano Rispetto al reggigas Di un tot minuti Per poter spawnare Che poi Se non mi sbaglio È dieci minuti Quindi ci va benissimo Questa cosa Che poi A voi ragazzi Sembra che sono passati Meno minuti Ovviamente ho fatto anche I dettagli Qua e là Però Ottimo Devo trovarlo Devo assolutamente trovarlo Corriamo Muoviamoci Super veloci Perché questo qua Non devo farmelo perdere Perché Abbiamo detto In inizio episodio Non ci può Sparire un pokemon Come Xurtri Un'altra creatura Un'altra creatura nuova Che poi Secondo me Il counter Dello spawning Del tempo Tra la ultra dimensione E la dimensione normale È completamente diverso Rispetto A quello Appunto Di che sono abitato Della dimensione normale Qua comunque Ho visto dei pallini gialli Quindi muoviamoci Anche con i pallini gialli Nella nostra mappa Allora Era nella Ultra Plant Biome Interessante Interessante Ultra Plant Biome Quindi Non è quello Noi muoviamoci In base ai pallini gialli Quindi che abbiamo Nella mappa Allora questo qua è un Minun No Questo è un Vikavolt Neanche lui Vabbè ragazzi Possiamo trovarlo Possiamo trovarlo Con molta calma Non impazziamo in questo modo È da trovare Non possiamo farcelo scappare Deve essere per forza In zona Ciao Pikachu Sei bellissimo Pikachu sei un portafortuna L'abbiamo trovato Eccolo qua ragazzi Xurchitri al 70 Ok Calma 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 Io quasi quasi li butto in battaglia Anche Regigica Così al volo Giusto per non sapere Leggerne e scrivere Così è il pokemon Che abbiamo catturato Contro quello Che abbiamo Che dobbiamo catturare Partiamo con un payback Vediamo quanto danni facciamo Ok ottimo ragazzi Ma che spettacolo Oh la la Oh la la Ma quanto ci ha tolto Ragazzi Ma oggi è un episodio leggendario In tutti gli effetti Perché qua Catturiamo un leggendario shiny Ma forse anche un'ultra creatura Vediamo Vediamo quanto è difficile Catturare questo Xurchitri Che è uscito all'ultimo giro Ragazzi eh Con vita gialla Così è uscito all'ultimo giro Allora Chi buttiamo Entro alla cacciara Palchia Vai palchia Palchia ci può stare Dai magari Però palchia È tipo Acqua Drago E se non mi sbaglio Xurchitri Ha delle mosse tipo elettro Che potrebbe disintegrarmi Questo palchia Con una sola mossa Però Noi comunque proviamo a catturarlo Con questo Con questa ultra ball Comunque lui rimane un sacco In waiting Ma quanto è bello Xurchitri Raga Ma è uno spettacolo Questo Xurchitri qua È veramente bellissimo Allora Proviamo a ricatturarlo Proviamo a vedere Se riusciamo a catturarlo Stiamo in waiting L'abbiamo preso L'abbiamo preso ragazzi Così Semplice Non lo buttiamo via ragazzi Xurchitri Lo portiamo a casa Mamma mia Oggi Che episodio ragazzi Veramente Che spettacolo Dov'è che l'abbiamo lanciato Xurchitri Dove sei campione Dove è andato Qua c'è il quilava Che abbiamo preso poco fa Dovrebbe essere qua in giro Possiamo mettere anche Tutto quanto in ordine Di Di come dire Di lettere Ma non ho voglia In questo momento Perché sennò Poi vi spoilerò I pokemon Che sto mantenendo Negli altri box segreti Eccolo Non lo vedevo Non lo vedevo Non lo vedevo Non lo vedevo Ecco Lasciamo giù un attimino Chi lasciamo giù Palchia Wow Ragazzi A parte che Xurchitri Ha una vita bassissima In questo momento Però per me L'importante è solamente Controllare Per vedere come è fatto Bello che è ragazzi Ma che spettacolo è Xurchitri È una delle mie Ultracreature preferite L'ho appena detto ragazzi L'ho appena detto Allora facciamo fuori Questo grabbin Che è un po' fastidioso Puttiamo via tutti quanti Si drop Grazie mille Allora Quindi Osserviamo un attimino Le statistiche di questo Xurchitri Moves Power whip Charge Thunderbolt Ipnosi Insomma Dimensioni huge Ok ottimo Ha l'attacco veloce OP Tanta roba Anche il speed Non è messo male Difesa è un po' messo malino Ragazzi Però comunque Ditemi qua sotto nei commenti Se anche secondo voi È uscito un bello Xurchitri Perché per me È uscito veramente Un mostro Tanta Un mostro Un pokemon Che è letteralmente OP Tanta roba Ma quanto sono felice ragazzi Intanto Se non mi sbaglio Appunto Tra La foresta rossa E quelle spike lì Scure Mi hanno fatto lo scheme Delle coordinate Che sto seguendo Che stiamo per arrivare A una specie di punto palestra Che era veramente stranissimo ragazzi Era uguale A quelle ruins Che avevano trovato Un po' di tempo fa Qualche episodio fa Ma C'era solo Un allenatore Che non ho sfidato Che non ho Visto che pokemon Avesse Quindi è ancora tutto quanto scuro Ma Attorno Aveva quelle ball Della ultra dimensione Che servono appunto Per catturare Le ultra creature Cosa Che io non ho ancora toccato Cioè Ho lasciato tutto quanto lì Appunto Per il video Perché volevo vedere In compagnia vostra Cosa succedeva Appunto Contro quell'allenatore Che era come se difendesse Quella zona Quindi noi avviciniamoci Proviamo a vedere Aiuto Allora Questa dimensione qui È ancora peggio Rispetto all'altra Che avevamo visto Perché si È una spike Marrone Che cacchio è quello Sembrava un ragno Ragazzi Non ti sembra tantissimo Un ragno Mi sembrava Comunque dicevo È una spike di quelle marroni Ma a quanto pare Non è uguale all'altra Perché se notate È piena di spaccature Di acqua Qua e là È veramente Eccola qua Eccola qua Non mi ricordavo Più o meno dove fosse Ma sapevo che era in questa zona E sono incastrato Però sicuramente Infatti mi sono incastrato Non so neanche io Come dia meno fatto Allora Proviamo a muoverci Io potrei volare Con i pokemon Sì ragazzi Mi è più bello Secondo me Comunque solvolare E saltellare qua e là Allora Guardate qua ragazzi Era di quello Che vi parlavo poco fa Con lì è l'allenatore A quanto pare Però sopra Ah no è un trader Cioè neanche è un allenatore È un trader Io l'ho vista lontano Pensavo fosse un allenatore E guardate qua in giro Ci sono un sacco di ball Ferme Che sono queste qua Ma sono tantissime Per essere in questa zona Quindi non so se Questo dungeon qui È spawnato o buggato Perché secondo me È un po' buggato Avere così tante ball Là c'è un mensho bellissimo Però facciamo così Lasciamone qua Per il prossimo episodio Però prima Voglio vedere questo trader qui Cosa ci vuole tradare Sono curioso Vediamo Ci dà un regidrago Per un Mewtwo Eeeh Non so Se è uno scambio eco Soprattutto perché Era il regidrago In realtà L'altare L'abbiamo già trovato Quindi in realtà Potremmo provare a catturare Di nostro Invece che scambiarlo Per un Mewtwo Che abbiamo trovato noi Anche perché Se ci pensate comunque ragazzi Il Mewtwo È molto più ossico Da dover catturare Rispetto al regidrago Perché per fare il Mew Deve avere il Mew Puoi sperare che quel Mew Sia fertile Avere i diamanti Il ferro e l'oro E poi provare comunque A catturarlo Cosa secondo me È più ossica Rispetto al regidrago Non lo so Non lo so ragazzi Dovete dirmi voi Qua sotto nei commenti Se fareste mai Questo tipo qua Di scambio Perché secondo me Non ne vale la pena Però ragazzi Ci sono questi tipi Di trader Nell'ultra dimensione È veramente Tanta 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 Tantissima roba Ragazzi Vabbè Io spero che questo video Qua ragazzi Vi sia piaciuto Vi invito a lasciare Un bel mi piace Un bel commento A iscrivervi al canale Se ancora non avete fatto A scegliere uno dei video Qua davanti E noi ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Da Marco è tutto Iscrivetevi E attivate la campagna E le nostre conte notifiche Vi ricordo che tutti i giorni Escono due video al giorno 5.30 7.30 Da Marco è tutto ragazzi Ciao ciao Ciao